Signori miei, signori miei, derby d'Italia tra Juventus e Inter, stiamo parlando però del calcio femminile. Eh, avevo letto un po' su Sky che è alle 12.30, c'era la partita e ho detto, ma perché non guardarla? Io, a onor del vero, quando sono stato a Milano a vedere Inter-Juventus, Inter-Juventus all'andata, poi mi fermai a vedere proprio dal vivo e ho fatto pure il video. Mi sono fermato a vedere il derby tra Inter e Milan e ero rimasto colpito. Cioè, il calcio femminile ha il suo, perché ha il suo, però, e perché no? Perché non vedere una partita così importante dove poi giocava la Juventus, che è la squadra praticamente da batteri, che sono nettamente avanti, il top del top, diciamo, del calcio femminile in Italia. e quindi ho detto, voglio proprio vedere come sta messa invece, come sta messa la Milano a Inter. E ho trovato una squadra che, nonostante il risultato, non ammetta poi repliche, perché quando perde 5-1 ci hanno demolito, ci hanno asfaltato. È netta la supremazia della Juventus. È una squadra nettamente, ma proprio nettamente più forte. Ma l'Inter è in crescita. L'Inter, cioè, nonostante il 5-1, io sto qui a parlare di un Inter in crescita, perché poi alla fine, sino al 60, settantesimo, l'Inter è stata in partita. Ed è un peccato perché abbiamo preso dei gol da polli. Siamo stati dei polli, anzi, delle polle, come si dice? Polli, polli, fate un po' voi. Però abbiamo preso tanti gol, ma proprio in modo stupido. Partiamo da un primo tempo equilibrato. Da un primo tempo veramente equilibratissimo. Peccato perché siamo stati anche un pochettino inconcludenti sotto porta. E poi loro trovano un lancio lunghissimo con chi è stata Boatin, se non sbaglio. Quello è un gesto tecnico bellissimo. O che lo faccia una donna o un uomo. Ragazzi, un calciatore. Quello è un gesto tecnico bellissimo. Non parlo, anche sì, perché no, dell'aggancio di Bonanzea, che lì a Sky stavano sempre a parlare dell'aggancio di Bonanzea. Ma lì il lancio bellissimo, proprio illuminante, preciso. E poi Bonanzea l'aggancio e la metterrete. Un lancio bellissimo. Ripeto, se non erro, è stata Boatin. E devo dire che anche quello è stato un gol da pollo, perché poi se faceva bene la marcatura, il centrocambio, io vado al maschile, ragazzi. Non mi ricordo come si chiama. Il centrocampista dell'Inter, il 6. E la Bartonova. Lì la Bartonova che ha fatto una gara, tra l'altro impeccabile. Però lì se l'è persa, se l'è persa la Bonanzea. E anche gli altri, anche gli altri, il 3-1, per esempio, da un passaggio errato di Marinelli, che, l'avevo visto dal vivo, Marinelli per me è tra le più forti. Almeno nell'Inter mi piace tantissimo correre su quella fascia. È un carro armato, è veramente tosta, tosta, tosta. Però lì sarà stata la stanchezza, ha regalato il terzo gol. Peccato perché l'avevamo ripresa. L'avevamo ripresa la gara, anche il secondo gol subito viene da una palla persa. Cioè, forse manca esperienza. Forse manca esperienza. C'è quel rincon, il nostro centrocambista, che non è male. Ci sono dei giocatori interessanti, però è ovvio che la Juventus abbia più qualità. Ma spero che si facciano investimenti importanti anche per l'Inter femminile. Perché è uno sport che, secondo me, può veramente essere apprezzato. Ecco, quando ci sono queste partite, diciamo, al vertice, non al vertice, perché, però, queste partite mi piace anche seguire il calcio femminile. E a sto punto penso che lo scudetto vada tranquillamente alla Juventus, perché poi, se non vado errato, tra Juventus e la Fiorentina ci sono già sei punti di distacco. E quindi, ripeto, la squadra da battere era la Juve. Nella Juve c'è la Girelli, cioè la Girelli lì davanti, che è fortissima. La Girelli è un attaccante proprio da aria. La Girelli è proprio quegli attaccanti da aria. Il quinto gol, per esempio, bellissimo. Dopo la Giacinti, ho visto dal vivo la Giacinti e la Giacinti, secondo me, non lo so, io ho visto poche partite, non è utile che mi metto qua a fare le spi... Però la Giacinti ha un tocco di palla fenomenale, veloce, scaltra e agile. La Giacinti, vedendola dal vivo, è tanta roba, è tanta roba. Però abbiamo bei talenti, abbiamo dei bei talenti anche italiani e di questo sono veramente contento. Niente ragazzi, io adesso alle 15 inizio l'avvento, se vado a vedere quella, fatemi sapere cosa ne pensate voi e ditemi se vi va ogni tanto sti video sul calcio femminile, ci possono anche stare. Che ne pensate? Commentate, likecate e se vi va iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Neschio!